Far rientrare il crimine, il sommerso e la prostituzione nel computo del PIL ci può aiutare da un lato puramente statistico e far variare il rapporto deficit-PIL. In sostanza ci può aiutare nei nostri rapporti con l'Europa e i parametri di Maastricht. Tuttavia queste contabilità non variano nella sostanza alla nostra situazione economica. Ha destato scalpore sconcerto la notizia che, in base al nuovo sistema europeo dei conti SEC 2010, nel calcolo del prodotto interno lordo vengono inserite anche le attività illecite. E così il fatturato della droga, della prostituzione, del contrabbando delle sigarette concorrono ora a formare il nostro PIL, così come quello degli altri paesi dell'Unione Europea. In base ai nuovi criteri è stato ricalcolato il nostro prodotto interno lordo del 2011 e sono stati aggiunti 59 miliardi di euro, di cui 15,5 pari all'1% del PIL provenienti dalle attività illecite. Più precisamente 10,5 miliardi vengono dal commercio di droga, 3,5 è l'apporto del mestiere più antico del mondo e solo 300 milioni produce il contrabbando di sigarette. Non si sa se piangere o ridere, dovremmo forse ora guardare con deferenza i mercanti di morte, i venditori di bionde e le professioniste dell'amore a pagamento perché, in fondo, messi assieme fanno crescere dell'1% il PIL? L'inclusione dei loro servizi nelle attività che concorrono a formare il prodotto interno lordo rende un po' più facile, tra l'altro, mantenere il fatidico limite massimo del 3% nel rapporto tra disavanzo pubblico e PIL. E infatti, ricalcolando i conti del 2012, lo sforamento del nostro disavanzo non è più del 3,7% ma scende al 3,5%. Dicevamo, non si sa se per ridere o piangere, ma siccome ce lo chiede l'Europa di fare i conti in questo modo e ci conviene pure, nessuno protesta. Non saranno certo trafficanti, contrabbandieri e mercenari dell'amore a compensare la drammatica caduta che il nostro prodotto interno lordo ha fatto registrare dal 2007 ad oggi e a farci ritrovare la via dello sviluppo. Un'acuta analisi delle cause di questa caduta e delle possibili misure per porvi rimedio l'ha compiuta l'analista finanziario indipendente Paolo Sassetti in un articolo che appare sull'ultimo numero della rivista la finanza. Egli ha analizzato l'evoluzione del nostro PIL dal 2000 al 2013, calcolato a prezzi costanti 2005, cioè in volumi reali. Risulta così che dal 2007, anno del suo picco e dell'avvio della crisi globale, al 2013 il PIL italiano è diminuito di 127,4 miliardi di euro, pari all'8,5%. Più in particolare, i consumi privati delle famiglie si sono contratti di 65,8 miliardi, meno 7,6%. La spesa pubblica è diminuita di 11 miliardi, meno 3,8% e gli investimenti tecnici lordi sono scesi di 84,5 miliardi, con un crollo del 26,7%. A ridurre la flessione del PIL a 127,4 miliardi sono state le nostre esportazioni nette, cioè il saldo tra export ed import, cresciuto da 5,2 a 50,5 miliardi di euro, che hanno messo una toppa di oltre 45 miliardi. Facendo il raffronto col 2000, la spesa pubblica risulta cresciuta dell'11,2%, mentre i consumi delle famiglie sono ancora di quasi il 2% al di sotto di quelli di 14 anni orsono. Quanto alle importazioni nette, il progresso del saldo dipende da una discreta tenuta delle nostre esportazioni, scese del 3,1%, mentre a ridursi maggiormente sono state le importazioni, contrattesi del 13,8%. Su un impulso al PIL proveniente dalle esportazioni, dunque, non c'è da far gran conto, come invece molti sostengono. Lo scorso anno il peso delle esportazioni nette sul nostro prodotto interno lordo era del 3,7%, ma nel 2007, anno di picco del PIL, esso era di appena lo 0,35%. Il saldo e la sua percentuale sul PIL, come abbiamo visto, sono migliorati soprattutto per la riduzione delle importazioni, ma è facile prevedere che, ai primi segnali di ripresa, le importazioni torneranno a crescere e quel saldo è destinato perciò a ridimensionarsi. Paolo Sassetti ha analizzato quindi a fondo la voce degli investimenti, quella che ha subito dal 2007 il crollo più impressionante. Disaggregando per settori la diminuzione di 84,5 miliardi degli investimenti e quindi del PIL dal 2007 ad oggi, risulta che essa deriva per 46,5 miliardi da una caduta delle costruzioni e per 29,4 miliardi da una riduzione degli investimenti in impianti e macchinari. Appare evidente che, per ritrovare la via dello sviluppo, una priorità della politica economica dovrebbe essere data all'industria delle costruzioni, considerato anche che essa consuma in larga prevalenza prodotti interni ed ha scarso impatto sulle importazioni. Non si tratta di consumare ancora territorio con nuove abitazioni, ma piuttosto di ristrutturare ciò che già esiste. L'Italia ha un patrimonio indilizio industriale, capannoni, fabbriche in buona parte inadeguato e lo si è visto in occasione dei più recenti eventi sismici. L'edilizia privata va incentivata, sostiene Sassetti, anche per quanto riguarda le abitazioni in modo da adeguarle agli standard di risparmio energetico e salvaguardare anche il patrimonio storico di tanti piccoli centri. Ma incentivare l'industria, dile come, e gli suggerisce due misure rispetto a cui Bruxelles non potrebbe obiettare nulla. Da un lato ridurre l'IVA sui beni e sui materiali impiegati nelle costruzioni, dall'altro aumentare la deducibilità delle spese sostenute per le ristrutturazioni. Nel brevissimo termine vi sarebbe una riduzione del gettito fiscale, compensato però ben presto dall'aumento dell'attività imponibile. I tagli alla spesa pubblica destinati alla ristrutturazione fiscale al settore delle famiglie, su cui è incamminato il Governo, sono condivisibili sotto l'aspetto sociale, ma per quanto riguarda la crescita del PIL rischiano di risolversi in un'operazione a somma zero. Si dà da una parte e si toglie dall'altra. Se volete approfondire i nostri argomenti potete seguirci su www.lafinanzasulweb.it e se volete commentarci potete scrivere su Twitter hashtag WebMind. Il tuo dentista di fiducia